Marco Cunico e Nicola Donazzà mi dicono, anzi voi ci dicono, che voi avendo giocato poco uno per un motivo, uno per l'altro, però comunque siete due uomini spogliatoio sia per quanto riguarda il padro sia per quanto riguarda il cittadino. È tutto vero quello che dicono Marco e Nicola? Nicola? No, se lo dicono gli altri vuol dire che è vero. Ma ti senti rappresentato in questo? Sì, faccio gruppo, faccio gruppo, vuol dire tante cose, niente, nel senso sono anche uno dei più esperti purtroppo perché l'età avanza anche per me, quindi cerco di portare anche un po' della mia esperienza dentro il gruppo, ma sì, mi chiamano ingestibile dentro lo spogliatoio, quindi non lo so, è una bella cosa, insomma è una cosa simpatico. Sì, sono felicissimo, faccio parte del gruppo e mi sento partecipato. Marco? Penso che sono sempre comunque il capitano della squadra, quindi nel momento che non giochi è ancora più difficile esserlo, perché comunque è più difficile trasmettere qualcosa e farsi seguire dai compagni. L'unica cosa che sono soddisfatto del mio giro nel ritorno è questo, che comunque nello spogliatoio ho mantenuto il mio peso da capitano e io ho sempre detto che se sei un leader lo decino gli altri, quindi va bene così, insomma. Grazie. Grazie.